bello che grafica ma non c'è non ha caricato un cazzo ne ha un e spinge addirittura la borsa bagnata una figa bagnata e magari ma entrate voi io ho trovato il 3p house non l'ho trovato anch'io para rianimante ce l'avete buona dai andiamo fuori dal cazzo subito zaini niente guarda 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 Prova cura No, basta Eccoli, una rocaforte Ok L'ho visto di sfuggita Sì, sì, quello l'altro Ah no, 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 botte Non botte Però sono giustato Quindi cosa dobbiamo fare? Facciamo giuro il palazzo Ok Ma c'è qualcuno sicuro Perché è una pera No Che bordello c'è C'è aperto Eh, non so Però magari hanno lasciato uno zaino Oh, percavia Sulla roccaforta un po' Cos'è che c'è? Ah su Ho visto uno Sì sì è su su Sulla roccaforta Ok 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 Parco io ho sbagliato prendendo il cecchino Su ce n'è un altro con Chittato al massimo tra l'altro Eh ma ho sbagliato non ho preso quello termi Ah vabbè io non lo uso neanche quasi più In quello è una scica Dove siete qua? Sul testo Io sono sopra Ah ok Non vedo nessuno sulla rocca Ah ho visto uno prima Ma non so se era un bot Eh però i bot sono agitati lì eh Già Eeeh Non so Eh rispettiamo un suo però proviamo Già Non so 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 Ne sei gambe Eh sono sul tetto Però c'è un team sulla montagna dove ci si butta dentro Figa ma Figa ma assordato Avemmo altre equipa italiana al giù Equipo Equipo Non so 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 Non c'è nessuno 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 Nel tunnel Vedo Ehm, avete le munizioni? C'è C'è nessuno D'ca-mi pericentei între 2 echipe Nu, echipa a murit Merea a murit Ah, e prima Sunt sigur? Da, 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 da. Deo adicare a disparut E da, am tras, da No, stai fermo lì, stai fermo lì Sono una PPR Minicon Ancora va Sì Oh, chi va, chi va, chi va Morto, dati via tutti Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, c'è successo Oh, mi, fatta Morto, trattato Ma no, avevo preso un M13, cazzo, dove è finito Avete trovato un M13 No, faccio un TAC Oh, eccolo qua Adesso mi lo sistemo Tanto che non lo trovo questo qua Minchia, li ho demoliti con l'M Con la Con il Vell Qua c'è un bel Victus Qua c'è una pistola aerea animante E anche una Ma chi sta sparando questo qua Eh, va fuori Andiamo dove sono I pezzi Sì, eccolo lì Porco due, ragazzi Oh, allora che cazzo Minchia sta andando a fanculo la connessione Ma dove sono Eh, dietro lì là Noi stanno andando a fanculo Eh, andiamo anche noi Non so, eh Eh, però Non si rompono il cazzo bot Non so dove sono Oh, stanno salendo qua Oh, che non sono bot, penso No Oh, oh Aspetta Oh C'è un zaino grande Niente Che c'ha la tonfa Questo qua nello zaino Cosa che c'ha? La tonfa Il manganello Spinge Minchia, li abbiamo fottuti lì, zi Poi c'è una torretta Questa è la squadra di cacci Minchia La squadra di caccia Questa è la squadra di cacci Questa è la squadra di cacci Nooo Cioè, ho tirato in giù Vabbè Questa è la squadra di cacci Questa è la squadra di cacci Questa è la squadra di cacci Talassi 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 Ciao l'UrasFM SAFEM Ma cazzo Oh in uscita sono qui Cominciamo a andare Ci spostiamo in direzione XFIL La ma è uscita Io ho la chiave per Aspetta che prendo Ho la chiave della borsa bagnata Minchia han demolito Ti voglio dire che è una maschera Cubacua Ce l'hanno questi Io non ce l'ho cazzo C'ho quella non subacqua Oh Oh porco di insana Sono questi stronzi del coso di caccia Ma verrà in culo oh chi è che vuole qualche roccaforte oh ma c'è un player dentro la piscina non è possibile bravo ma porca trattore è andato già a vedere la casa se c'è qualcosa no ok no ah già fat oh ok ma dove è la stazione? è andato è andato va bene è andato 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 è andato